buonasera buonasera a tutti questa sera ci troviamo qui per il nostro appuntamento che un po' alla volta diventerà costante e anche fisso nelle giornate anche se è ancora presto per farlo tra qualche settimana lo faremo ma intanto approfittiamo di questa serata per parlare un po di attualità i fatti principali che stanno accadendo perché i media cederanno interpretazione molto parziale e noi abbiamo un intento di analizzarli più a fondo vedere cosa c'è dietro la grande differenza è che visti come sono visti dai media sono solo terrorizzanti sono solo strategia della tensione visti in una prospettiva più ampia si comprendono meglio e si comprende anche meglio che cosa possiamo fare noi per fare in modo che quello che ci viene incontro non sia solo terrore paura odio e rabbia ma possa diventare qualcosa di positivo che cosa commenteremo quindi stasera parleremo ancora del covid di questa novità di questo ulteriore lockdown e delle conseguenze viste da un punto di vista più ampio non solo quello commentato dai giornali dei talk show parleremo della ripresa del terrorismo sempre dal nostro punto di vista per comprendere cosa c'è dietro chi sono i veri attori quali sono i veri obiettivi a prescindere dalle falsità che ci vengono raccontate dai media che interpretano solo i sintomi come fa spesso la medicina pensa di capire le malattie dai sintomi mentre le malattie vanno capite dal processo psicosomatico che c'è dietro e dagli obiettivi di ogni malattia e poi parleremo anche delle elezioni americane qual è il loro senso cambia qualche cosa se arriva biden oppure se rimane trump sì in parte sì ma forse non cambia esattamente quello che pensiamo noi quindi parleremo anche di questo le prossime volte ci occuperemo anche di alcuni argomenti più specifici come il senso dell'aggressione elettromagnetica di questo 5g ma anche la digitalizzazione del mondo tutte cose che vengono facilitate anche dal covid ma che vanno ben al di là come aggressione alla nostra struttura fisica e come direbbero gli iniziati anche eterica per cercare di condizionarci di più e di frenare le nostre coscienze quindi ne vedremo delle belle delle brutte con l'aggressione elettromagnetica ma la nostra interpretazione è sempre quella di approfondire le cose per capire noi di positivo che cosa possiamo fare anche in una situazione del genere e parleremo anche a questo proposito di un tema che in questi giorni viene divulgato che è il tema del grande reset del great reset di cui si parla di questa occasione del covid della crisi economica di tutto quello che sta succedendo per riformulare la società per cambiare la società in certi sensi più anti umani di questo si parla molto in questo momento se ne parla come possibilità di trasformare l'economia la finanza i poteri politici noi pensiamo che sia qualche cosa di più di questo di più ampio parliamo di questa cosa del resto da molti anni è un'offensiva che è in concorso contro di noi da molti anni ne abbiamo parlato abbondantemente nel nostro libro del 2005 il mistero della situazione internazionale ma è anche l'oggetto di quello che diciamo ogni volta che siamo in pubblico ogni volta che facciamo questi video e ne parleremo ancora però approfitteremo di questo tema del great reset per chiarire meglio che cosa sta succedendo come al solito ci occuperemo dei temi dal punto di vista di quella che noi chiamiamo la visione spirituale cosciente la visione della vita e del flusso di eventi non casuali che ci vanno incontro sia gli eventi individuali che anche quelli collettivi che non sono casuali sempre da un punto di vista molto particolare quello spirituale che ritiene che quello che viene consentito da forze superiori che guidano l'umanità di male contro di noi in effetti viene consentito come nelle vite individuali solamente per spingerci a crescere a produrre un bene in più e che in fondo all'umanità non viene mai concesso attribuito un male superiore a quello che non è in grado di trasformare attraverso una vita o attraverso più vite in crescita ed evoluzione così è accaduto finora così sta accadendo ancora adesso e così continuerà ad accadere però bisogna cogliere questo aspetto altrimenti rimaniamo preda del terrore e delle paure comprendendo meglio come stanno le cose possiamo anche capire in quali direzioni andare per facilitare il nostro processo di crescita quello processo di crescita individuale e anche processo di crescita conseguentemente della società e quindi vedremo che pandemie guerre terrorismo crisi economiche non sono altro che la creazione di emergenze che mirano da una parte a frenare i risvegli delle nostre coscienze della nostra evoluzione e dall'altra a verticalizzare a centrare un potere che con le coscienze il risveglio tende a sfuggire ai poteri tradizionali e quindi si tende a verticalizzare a mondializzare per allontanare sempre più il potere dalla gente in risveglio che è in risveglio soprattutto nei livelli locali parliamo del lockdown di questa cosa che è intervenuta con un improvviso decreto al seguito dell'innalzarsi dei tassi di positività e anche di aumenti di terapia intensive questo lockdown serve non serve cosa possiamo dire in parte sì ovviamente perché è vero che il tasso di letalità è molto ridotto rispetto a marzo aprile però è anche vero che i numeri di positivi sono molto alti e questo manda in affanno le strutture sanitarie questo non lo sappiamo solo dai telegiornali ma dai tanti infermieri e medici che conosciamo direttamente che ci informano su quello che sta succedendo quindi certamente le strutture mediche non erano pronte e sanitarie a gestire questo tipo di problema quindi il vero problema adesso è il sovraffollamento non tanto la gestione della malattia che viene gestita sempre meglio in maniera molto migliore di prima e poi a quanto pare il virus sembra aver virato in una maggiore contagiosità e in una minore letalità a seconda di quello che dicono certi studiosi quindi il fatto è che se il sovraffollamento è enorme e in certe ci si trova in certe situazioni come ci hanno raccontato anche stamattina nelle quali bisogna nuovamente tornare a decidere se curare un giovane o un anziano il che è veramente drammatico vuol dire che insomma la situazione è emergenziale ma perché si poteva fare molto di più e volutamente secondo noi non si è fatto cioè la strategia oms e dei vari governi stranamente è spesso stranamente stupida stranamente dai consigli sbagliati facciamo facciamo un esempio quello più macroscopico si è visto subito che le persone che diventavano gravi e che poi morivano erano quasi sempre immunodepresse quindi questo era il problema più importante immunodepresse perché ammalate per vari motivi per l'alimentazione per l'obesità il diabete più malattie una dopo l'altra quindi erano immunodepresse ma ci fosse mai stata un'indicazione una campagna bisognava fare per aiutare il sistema immunitario delle persone sia il sistema immunitario fisico che anche quello psichico allora quello fisico andava rafforzato inducendo finalmente le masse a mangiare meglio a fare ad avere uno stile di vita migliore a non ubriacarsi a non passare il tempo a mangiare robaccia ad alimentarsi meglio a non drogarsi a non fare tutte quelle cose che indeboliscono il sistema immunitario di questo non si è parlato per niente eppure era diciamo la panacea principale perché molta meno gente sarebbe morta e molta meno gente sarebbe finita in terapia intensiva certo i malati più gravi ci sarebbero finiti ma con l'andare del tempo se la gente avesse migliorato già negli scorsi mesi il proprio stile di vita molte più persone molte meno persone sarebbero ammalate molte più persone sarebbero finite in ospedale però questo non si è fatto per non parlare di un tema che si può vedere solo a punto di vista spirituale e psichico psicosomatico questo virus porta con sé un attacco psichico che è visibile dagli studi scientifico spirituali nel senso che di per sé tende a provocare paure rabbie e sfiducia nella vita e quindi di per sé fa questo quindi chi non ha uno spirito saldo uno spirito che conosce il senso della vita uno spirito non materialista non casualista ma che si rende conto del senso profondo spirituale immortale di una vita chi non si rende conto di questo è destinato a subire fortemente l'impatto di questo virus perché di fronte ad un'aggressione che rischia di farlo morire va in paura reagisce con rabbia reagisce a seconda del proprio temperamento e perde fiducia nella vita chi è che collabora col virus nell'espansione della stessa malattia infettiva tutte le malattie infettive vengono favorite da sfiducia nella vita paure e rabbie ma chi è che collabora attivamente col virus i nostri media i nostri media non fanno altro che espandere il virus dal punto di vista psicosomatico che poi diventa fisico perché non fanno altro che spargere paura rabbia che creare terrorismo tutti i giorni esaltando le notizie negative e senza far capire la realtà vera delle cose quindi alleati perfetti del virus ma del resto dipendono dagli stessi poteri antiumani quindi diciamo che virus e media sono in combutta per allargare l'epidemia e che i governi lasciano fare i governi partecipano a questa cosa perché loro non fanno campagne di impegno per migliorare il sistema immunitario fisico e psichico delle persone questo è la prima cosa gravissima che è stata fatta e sì che si continua a fare poi non si sono preparati i medici di base quelli che devono fare da filtro anche tra la prima e la seconda ondata bisognava preparare sostenere e responsabilizzare i medici di base prepararli meglio perché devo dire che la maggior parte dei nostri medici di base sono assolutamente impreparati anche rispetto alla generazione precedenti diciamo andava fatto uno sforzo per la medicina territoriale questo è stato detto è stato detto ma la seconda ondata dimostra che non è stato fatto mi raccontano telefonate urgenti fatte a medici di base che non sanno dove cosa fare non sanno dove mettere le mani non sanno che cosa consigliare un vero e proprio disastro quando in tanti casi e me ne è capitato uno stamattina basterebbe un medico preparato per consigliare per calmare invece di spingere in fondo la persona ad andare in un punto soccorso che già è iper affollato e affondare ancora di più nella faù paura che incrementa la possibilità del virus di fare danni anche nel corpo quindi questo non è stato fatto tra la prima e la seconda ondata non è stato fatto casualmente per in preparazione non lo so io a pensare male si fa peccato ma certe volte ci si azzecca come diceva uno che di male se ne intendeva quindi da che cosa è peggiorato tutto questo elemento è peggiorato dal fatto che noi viviamo in un'epoca materialista e quindi perché uno non deve avere paura perché non deve arrabbiarsi perché non deve avere fiducia in che cosa in una vita che finisce col primo virus nell'assenza di immortalità nell'assenza di ideali superiori nella paura di quello che può avvenire in ogni momento dal caso che ci viene incontro una visione materialista è disperante e spinge l'umanità ad essere più soggetta agli attacchi psichici e fisici quindi una cosa che dovremmo fare noi tutti è spingere noi stessi e le persone intorno a noi ad avere una fiducia cosciente nella vita non è facile una fiducia cosciente in quelle che sono le nostre buone azioni possibili il nostro intervenire nella vita l'essere liberi di fare il bene sempre l'essere noi a prendere in mano la nostra vita e non essere sempre trascinati dagli eventi quindi serve una visione più ampia una visione cosciente una visione spirituale che rende anche come diceva steiner più forte il nostro sistema psichico spirituale e quindi anche il nostro sistema immunitario una cosa che notavo in questi giorni riguarda uno degli obiettivi di questo covid che era quello di istituire e rafforzare così come come della campagna dei vaccini di istituire e rafforzare un nuovo tipo di papato il papato scientifico allora il papato religioso ormai per tantissime persone non funziona più la gente comincia a avere come criterio la gente in risveglio e comincia a essere tanta la propria opinione la propria idea di bene non quello che ti dice qualcuno da fuori quindi ognuno ha delle liste sue di quello che pensa sia bene e male questo è trasferire il principio di autorità da esterno a interno a interiore una volta il principio di autorità era dal di fuori qualcuno ti doveva sempre dire se era peccato se non era peccato se si faceva se era giusto se era sbagliato se era buona etichetta se non era buona etichetta queste cose noi abbiamo cominciato a distruggerle negli anni 60 con la contestazione è una parte dell'umanità anche se non ha ricostruito una morale nuova ancora comincia a pensare decido io e questo è il futuro in base al quale il vero principio dell'amore in noi e quindi della ricerca del bene quindi dell'evoluzione è decido io che cosa è bene non più un potere esterno tanto più che in questo momento ormai da qualche secolo e ancora di più negli ultimi decenni tutti i poteri esterni non sono granché buoni e certo non parlano a nome del cielo quindi quello che ci dicono non c'è da fidarsi ma più noi siamo svegli e più ci dicono delle cose che non ci suonano meno noi ci fidiamo e più rafforziamo il nostro principio d'autorità interiore il che sta funzionando abbastanza bene il covid che voleva imporre insieme ai vaccini attraverso il quale le autorità volevano imporci la scienza che dice come stanno le cose al di sopra della politica al di della finanza è fallito miseramente come principio perché tutti si sono reso conto che prima di tutto gli scienziati non erano d'accordo uno con l'altro e lo stesso ammesso gli stessi governi un giorno diceva una cosa un giorno diceva il contrario quindi anche in fasce più ampie del risveglio precedente ha cominciato a crearsi una sorta di sfiducia crescente e quando io comincio ad avere una sfiducia crescente nell'autorità esterna che sia il governo che siano le strutture multinazionali una volta che l'ho persa fondatamente è difficile che la recuperi quindi è difficile ritornare a credere al dogma del papato al dogma della scienza al dogma del governo al dogma dell'onu dell'oms quello che vi pare quindi diciamo che in questi giorni sto ripetendo anche in tante mie conferenze che se uno degli obiettivi era quello di imporre un dogma di papato scientifico questo è praticamente miseramente fallito nel senso almeno per una parte dell'umanità nel senso che il principio dell'autorità esterno si è dato un terribile colpo nelle gambe con questa storia e questo è un fatto come conseguenza del covid naturalmente il potere che controlla i governi quello antiumano cerca di recuperare in qualche modo è troppo golosa questa idea di avere un papato scientifico che supera la politica un papato medico che va al di là di considerazioni umane politiche coscienziali e quindi si sono inventati la formula di questo lockdown il tema qual era era quello di superare le incertezze di superare i dissidi tra i poteri locali le regioni e i comuni e lo stato e quindi chi voleva una cosa che voleva dall'altra hanno tirato fuori dal cilindro imponendolo però come governo il principio che la scienza dice come stanno le cose quindi la scienza fissa 21 criteri in base a questi 21 criteri scientifici viene determinato quali regioni vengono chiuse o quali rimangono aperte quindi il criterio non è politico nessuno può dire niente c'è una scienza che ha dimostrato ampiamente negli ultimi mesi di essere incerta inefficace e contraddittoria però c'è una scienza che decide per tutti e tutti compresi comprese le persone elette elette dal popolo compresi i movimenti di opinione tutti devono obbedire a una scienza che di per sé è falsa e sbagliata almeno in parte però questo è il tentativo di reimporre e tanta gente si sta ribellando di imporre nuovamente il papato scientifico naturalmente più lo fanno più quelli in risveglio reagiscono e meno questo funzionerà sta a noi sta a noi guardare come stanno le cose e giudicare ogni giorno è bene o è male mi dicono la verità o non la verità più ce lo vogliono imporre se facciamo così più ci svegliamo un altro tema di attualità è quello del terrorismo del terrorismo islamico abbiamo visto tutti nelle scorse settimane anche negli scorsi giorni quelle terribili scene in francia e in austria quindi scene di morte aggressione sgozzamenti sparatorie nel centro di vienna morti feriti e questo ha creato in noi tanti sentimenti contrastanti io guardando quelle scene in cui vedevo poliziotti agitarsi correre cercare di bloccare fare inseguire eccitati e lo stesso terrorista che sparava anche lui preso da chissà che cosa diciamo che la scena mi faceva molta pena perché è una tragica ironia il fatto che in qualche modo se si risalisse nelle gerarchie di potere si vedesse si potrebbe vedere che nella gerarchia del capo del capo del capo del capo del potere che dietro a quel poliziotto a quei poliziotti quindi risalendo molto in alto al di là degli stessi poteri governativi scopriremo che ci sono quegli stessi poteri che attraverso maestri attraverso influenze attraverso lobbies attraverso poteri islamici oscuri eccetera eccetera hanno in qualche modo indotto quel ragazzo quelle persone immature inconsapevoli prese da cattivi sentimenti ad andare a fare quello che hanno fatto questo la maggior parte della gente non lo sa ma sono gli stessi poteri che determinano queste crisi perché sono crisi che provocano odio rabbia risentimenti scontri e sono scontri che da una parte vengono fatti per cercare di frenare la crescita della coscienza umana di ostacolarla con con cattivi sentimenti perché con i buoni sentimenti e cresce la coscienza umana con la ricerca del bene quando si odia quando si vuole il male quando si interpreta un un qualcuno una razza o qualcuno come un diverso qualcuno da odiare da da ostacolare in tutti i modi stiamo andando contro la crescita della coscienza quindi sono dei poteri che organizzano il male sulla terra e fanno questo di mestiere naturalmente ultimamente controllano sempre o non ultimamente tra tanti secoli entrambe le fazioni degli scontri cioè organizzano le guerre tra le loro piramidi mettendolo una contro l'altra il vecchio divide timpera e organizzano gli stessi terrorismi mettendoli l'uno contro l'altro organizzano in questo caso hanno organizzato questo scontro islam occidente perché doveva essere un conflitto mondiale però mentre i conflitti mondiali precedenti si basavano come quello usa urso occidente oriente est ovest su una quasi parità di forze anche se poi non era vero che fosse una parità e quindi di forze nucleari di forze convenzionali eccetera quindi si faceva un conflitto una minaccia di conflitto come nella seconda guerra mondiale un conflitto convenzionale in cui c'erano grandi scontri di eserciti e diciamo si dice in termini tecnici che lo scontro era simmetrico il confronto adesso se si voleva creare uno scontro con l'islam non si poteva fare una guerra vera e propria siccome si voleva ricreare un qualche cosa di antico riproponendolo adesso si voleva ricreare il contesto delle crociate riproponendolo adesso di questi tempi quindi per creare un nuovo focolaio di tensioni anticoscienza nel mondo come una malattia mondiale che servisse ad abbassare la coscienza umana volendo fare questo si doveva fare con l'islam ma non si poteva fare un conflitto simmetrico perché perché non ci sono le forze del saladino dall'altra parte non ci sono enormi eserciti islamici mentre da quest'altra parte dell'occidente ci sono armi atomiche aeronautiche potentissime eserciti preparatissimi e molto più forti quindi un conflitto convenzionale finirebbe in pochi giorni quindi si sono inventati un conflitto asimmetrico si chiama quindi si è creato i stessi poteri hanno creato il terrorismo che è un nemico invisibile che guarda caso in qualche modo scappa sempre anche in un'epoca nella quale non scappia più nulla con tutti i satelliti che ci sono in giro quindi si sa sempre chi dove come perché ma stranamente con le so fonti vere del terrorismo non si sa mai chi dove perché scappa sempre qualche cosa questo perché perché in occidente c'è un livello di protezione un livello molto alto oscuro di protezione dello stesso terrorismo e da questo livello dipendono anche i nostri servizi segreti anche le sfere di potere più alte anche i governi in fondo che tengono in piedi la sceneggiata di questo conflitto asimmetrico quindi col terrorismo si può fare per alimentarlo un'altra cosa che hanno fatto è che hanno portato il possibile il presunto nemico nel cortile di casa perché questi nemici escono fuori dai tanti immigrati la cui immigrazione è stata favorita immigrati buoni persone per bene ma era facile prendere qualche immaturo alimentarlo con l'odio e quindi noi non sappiamo in effetti in europa in occidente da dove ogni giorno può spuntare il nemico può spuntare dal vicino di casa insomma questa è la creazione di un conflitto asimmetrico che mettesse comunque paura ansia e che fosse usabile a seconda del momento questo era il momento di far esplodere cose in francia in austria e si sono fatte esplodere e quindi vedrete che nessuno risalirà mai ai mandanti e perché i mandanti sono loro e quindi ci devono tenere nascosta questa cosa la cosa che mi fa più pena è che non solo le nostre forze dell'ordine sono fatte di tante brave persone per la maggior parte sono inconsapevoli di questo e ce la mettono tutta e i loro principali nemici forse non sono i terroristi stessi ma i loro i comandanti dei loro comandanti e poi chi mi fa anche molta pena sono i terroristi io ho viaggiato conosciuto ho vissuto in medio oriente occupandomi di questi argomenti e conosco la psicologia del del giovane che diventa terrorista quindi viene cresciuto in particolari scuole in particolari scuole oscure con dei maestri oscuri che invitano all'odio e invitano all'aggressione all'infedele e li riempiono di pensato si basano su una cosa della quale in fondo noi siamo anche responsabili come occidente cioè l'odio per l'occidente che viene trasformato in violenza che viene trasformato in cattiveria in in cose sanguinarie in azioni sanguinarie in effetti per queste persone in qualche modo è giustificato perché chi è che ha fatto colonialismo lì chi è che continua ancora a corrompere tutti i governi del medio oriente e del mondo arabo anche dell'africa che continua a succhiare le risorse vitali di questi popoli lasciandoli tutto sommato poveri tranne le famiglie corrotte connessi ai poteri occidentali chi è siamo sempre noi non noi i poteri oscuri che ci governano salviamo noi perché noi non c'entriamo niente noi gente normale con questo non c'entriamo niente non ci diamo la colpa perché siamo occidentali no sono le fratellanze oscure occidentali come direbbe il buon steiner che fanno questo da secoli e che questo momento controllano tutti i governi tutti i servizi segreti controllano i governi del medio oriente controllano i vertici del terrorismo e sono in grado di montare guerre stragi e cose del genere quindi come facciamo ad avercela con uno di questi ragazzi che è stato cresciuto nell'odio contro di noi contro l'occidente quando in fondo l'occidente qualcosa ha fatto e tra le cose che ha fatto è quello di alimentare le stesse fratellanze oscure dalle quali che crescono questi giovani terroristi al suicidio alla violenza fisica all'odio a odiare loro e a suscitare come strumenti per suscitare odio rabbia ed emergenze in occidente a che cosa serve tutto questo a creare problemi ma è anche vero che ogni guerra simmetrica o asimmetrica suscita anche la voglia di bene come conseguenza quindi sono momenti duri sanguinari ma sono anche momenti che risvegliano le persone guardate che razza di momento entusiasmante dal punto di vista morale è stato la fine della seconda guerra mondiale buoni sentimenti in italia una bellissima costituzione la voglia di pace la voglia di bene che poi è stata maltrattata è stata presa degli stessi poteri che hanno fatto poteri strani come l'onu come cose sovranazionali finti istituzioni di bene ma intanto la voglia di bene nell'umanità era cresciuta non ci sarebbe stato il risveglio di coscienza della seconda parte del secolo scorso e che ancora dura se non ci fosse stata in fondo gli olocausti e le stragi della seconda guerra mondiale quindi viviamo un momento difficile viviamolo con compassione rendiamoci conto di chi sono gli attori ma rispondiamo non facendoci prendere dall'odio per nessuno cercando di fare il bene laddove siamo cercando di capire che le emergenze delle quali ci mettono solo strategie della tensione tendenti ad alterare in peggio la nostra anima se questo tende ad alterare la nostra anima in peggio l'anima è nostra e noi possiamo lavorarci per non farla alterare e come diventando più amorosi stando più a contatto con la natura con la bellezza ma soprattutto compiendo azioni buone laddove siamo prendendo iniziative di bene laddove siamo nel mondo così invece di indebolirci rafforzeremo noi e le persone che sono intorno a noi e se tante persone un po alla volta faranno questo solo questo migliorerà il mondo alla faccia dei poteri che lo vogliono peggiorare passando per il peggioramento delle nostre coscienze altro argomento d'attualità in queste ore anche troppo devo dire sono le elezioni americane pare che per gli italiani la cosa più importante del mondo siano le elezioni americane nottate intere commenti anche delle previsioni dell'ultimo paesetto del minnesota una cosa assolutamente incredibile tecnica di distrazione di massa quando abbiamo cose ben più importanti delle quali occuparci nella nostra vita ma vediamo un po visto che ce l'abbiamo di fronte che significa tutto questo che è questo teatrino incredibile di queste elezioni anche un po ridicolo per il modo in cui si presentano i presidenti americani sembra il circo barnum vediamo un po allora primo principio io ho lavorato in organi sensibili dello stato e quindi mi rendo conto di tante cose ho avuto testimonianze ed esperienze del passato degli anni 60 70 80 90 e una cosa la sapevo le elezioni si truccano tutte volendo sempre è sempre possibile allora era possibile quando non c'erano i computer e si faceva a mano e c'erano i modi cioè se si voleva favorire una corrente democraziana rispetto a un'altra c'erano tutti i modi per farlo e quindi diciamo che c'era una capacità di intervenire su quello che la gente voleva non completamente ma insomma in maniera sostanziale si interveniva in due modi sulla gente attraverso i messaggi quindi attraverso i media attraverso le forme pensiero che vengono date alle persone attraverso il numero limitato di scelte che ci viene in fondo dato e delle volte scegliamo il meno peggio quindi numero limitato di scelte e se poi per caso alle elezioni non ci comportiamo esattamente secondo i progetti cercano comunque di dare una mano a truccarle quindi a ragione trump adesso a strillare sì ma poteva avere ragione anche la clinton a strillare quando è stato fatto trump perché qualcuno voleva che trump andasse al potere quindi questo è già un dato quindi questa esaltazione della democrazia americana è roba da ingenui quindi figuriamoci con il computer con le schede che viaggiano per posta figuriamoci chi controllerà mai e poi se qualcuno controllerà chi controllerà i controllori che stanno stati sempre nominati dal potere no è come la storia dei 21 criteri della scienza no per adesso per il lockdown i 21 criteri chi li ha definiti ma e chi è che poi controlla che i numeri che entrano nei 21 criteri sono proprio quelli giusti la scienza è perfetta esatta così come la democrazia americana che è perfetta e esatta roba da bambini roba da ingenui roba da pecore quindi usciamo da questa da questa visione da pecore e cerchiamo di orientarci per capire noi che noi siamo i pastori della nostra vita e non le pecore quindi un problema vero comunque che cosa per il potere e che cosa pensa l'opinione pubblica il cielo vuole che la gente abbia sempre un suo peso e quindi nessuno nemmeno re sole poteva fare proprio tutto quello che gli pareva la mattina domandava i suoi consiglieri la gente che pensa la gente che fa e in questo valeva per l'imperatore augusto valeva per valeva perfino per hitler cioè si dovevano rendere conto di che la gente se fosse stata tutta contro sarebbe stato un serio problema e quindi la gente va manipolata la gente va imbrogliata fino a che è possibile farlo in certi casi diventa difficile soprattutto di questi tempi la gente tende siccome in risveglio a cambiare idea più facilmente una volta in una religione un'ideologia ci rimaneva secoli delle volte millenni adesso tende a cambiare abbastanza rapidamente cioè se un partito se un sacerdote se un medico fa una cosa dice una cosa che non mi suona io cambio una volta non era così semplice così facile proprio interiormente fare questo adesso è una cosa più facile del mondo delle volte si fa anche troppo quindi diciamo mantenere un sistema politico in mano per i poteri scuri non è facile perché tu costruisci dei personaggi li presenti alla gente e se alla gente poi questi personaggi per qualche motivo non vanno bene ti devi affrettare a costruirne un altro allora il gioco detenuto da un potere antiumano superiore è quello del divide timpera lo ripeto tante volte e grosso modo ci sono due grandi piramidi che già c'erano al tempo del dell'impero romano c'è una piramide che sfrutta gli egoismi umani il conservatorismo la voglia di non cambiare la voglia di proteggersi dall'estraneo diciamo sentimenti volti a se stesso questo non significa che tutti quelli come qualcuno ha voluto dire commentando le mie parole tutti quelli che dicono trump è il meno peggio sono egoisti no semplicemente hanno fatto una scelta forse in parte ingenua interiore ma l'obiettivo di quella piramide è vedere la piramide sovranista è concentrare no lo si vede dai giornali da quello che dicono concentrare diciamo i sentimenti egoici della gente sfruttare quelli quella è la gran massa di elettorato alla quale mirano poi c'è l'altra piramide che secondo me è ancora peggio è quella finto buonista nel senso che la gente sviluppa buoni sentimenti la gente vuole più soldi per gli operai più soldi per i pensionati vuole una migliore assistenza vuole le pensioni vuole ideali vuole cose e loro dicono noi siamo i difensori dei vostri ideali e in effetti ogni volta che poi vanno al potere fanno servono le grandi lobby industriali finanziarie le grandi lobby oscure anticulturali anti artistiche anti bellezza anti umane con l'elettorato che voleva il bene quindi perennemente creano aspettative cavalcano le aspettative magari con uomini nuovi e poi le tradiscono il che dopo un po induce le persone a votare l'altra piramide la gente di memoria abbastanza corta le masse quindi prende c'è un individuo nuovo c'è il ciuffo biondo lo voto oppure è un comico italiano non importa se è stato sul britannia però uno che fa ridere caruccio poi ha sposato tanti temi poi dice tutto quello che voglio io i suoi dicono tutto quello che voglio io i vaccini l'ecologia tutto quanto i cassetti aperti dei ministeri eccetera eccetera quindi io voto per loro e questo è il classico esempio di di manipolazione dei buoni sentimenti e poi gli stessi vanno al potere con un voto enorme della gente che voleva il bene e questa gente pezzo pezzo rapidamente viene tradita la novità è che si sente anche tradita e quindi diciamo il peso elettorale tende a scomparire però nel frattempo che è successo è che questo gruppetto chiamiamolo cinque stelle così è chiaro no disproveduti guidati da un comico al servizio di qualcuno chi lo sa non lo so però sul britannia c'è stato questi queste persone che cosa fanno poi non hanno capacità di governo effettive e stranamente guarda un po stranamente prima hanno favorito l'accesso di salvini al governo e poi alla fine ci hanno ricondotto nelle mani del pd ma che significa chi è che ha guidato questa storia cinque stelle sì figuriamoci il potere che è dietro di loro quindi la gente la stufa del piramide così detta falso abbonista che rappresentata soprattutto dal pd in italia e dalla sinistra che magari rispettasse gli ideali di base magari ma il fatto è che serve sempre dei poteri superiori quindi la gente si era abbondantemente stancata di questi che hanno letteralmente svenduto il paese ai peggiori poteri e quindi a un certo punto si stava orientando verso il finto nuovo cinque stelle non sapendolo e verso la corrente sovranista di destra la solita piramide egoica eccetera eccetera che diceva che quando non sta al potere dice un sacco di cose giuste tra l'altro ma è facile farlo quando stai all'opposizione quindi un rapido periodo di passaggio con salvini e compagni nella quale è stato messo in evidenza al massimo tutte le concongruenze le cose eccetera eccetera per poi o le tornare con un passo a sorpresa del 5 stelle creazione di una crisi e ci hanno riportato nell'ovile precedente quindi questo passaggio a salvini e questo passaggio del 5 stelle è servito in fondo per farci ritrovare nella condizione che la maggior parte della gente non voleva più quindi è stata una specie di sonnifero no questa è la stessa cosa che succede in america allora prima di tutto bisogna dire questo negli ultimi decenni si è il potere ha deciso di dare tutti i poteri oscuri superiori di da di manipolazione anticoscienza anti umani di dare il predominio di fondo alla corrente finto buonista perché perché la gente si sta svegliando e vuole il bene e quindi è la corrente che è più ecologista è la corrente che vuole il bene è la corrente che vuole una trasformazione positiva della società è la corrente che vuole il paradiso in terra anche tecnologico è la corrente che vuole contro l'effetto serra è la corrente che vuole eseguire i buoni sentimenti della gente magari manipolandoli ma questo vuole fare quindi la corrente mondialista è la corrente standard di standardizzazione quindi antinazionalista nulla di male in questi ideali il problema è chi li conduce per fare che e dove andare a finire quindi è un gruppo oscuro che vorrebbe tutto il potere senza ritardi locali senza nazionalismi senza troppe gente in risveglio a livelli locali che dà fastidio e che rompe le scatole a questo progetto qui diciamo da alcuni decenni quella che viene spinta è la corrente mondialista però la gente comune che è in risveglio dopo un po si accorge che quei capi di stato quei governi di questa corrente non gli piacciono non vanno bene fanno altro che il bene della gente e quindi qual è la tecnica la stessi i stessi poteri di dominio fanno in modo di favorire quando in calo è diventato impresentabile il loro gruppo principale di favorire la piramide opposta però che cosa fanno fanno in modo che questo sia il preludio al ritorno alla piramide preferita e quindi come si fa si fa in modo che al potere vadano dei personaggi ridicoli oppure pieni di scandali oppure pieni di problemi in modo che la gente attraversa i loro mandati dopo un po si stufi e torni almeno peggio che era il peggio di prima e quindi questo è accaduto con i clinton è accaduta con i democratici americani con obama il falso premio nobel per la pace che appena fatto premio nobel ancora prima di dire ha cominciato a fare guerra a tutto spiano molto più di trump che non ne ha fatte e quindi la gente si dimentica e la gente dice ma torniamo a prima in fondo era meglio perché guarda questo come ridicolo guarda che faccia che c'ha guarda e quindi in questo momento se vince biden eh guardate che faccia da automa che c'ha quest'uomo no come è proprio un esecutore classico freddo guardate gli occhi no questi sono esecutori di poteri ben più negativi di quelli ai quali obbedisce o disobbedisce in parte anche trump però diciamo il suo ruolo è di riportare in fondo lui non lo sa di riportare la gente nell'ovile principale la stessa cosa il ruolo di berlusconi è stato questo e il ruolo di di salvini è stato questo guardate anche il tema degli attacchi giudiziari e di attacchi di scandali che tutti subiscono questi qua della piramide di destra per sporcare la loro immagine loro servono semplicemente a farci dimenticare quant'erano inefficienti cattivi e anti gente quelli di prima in modo che noi dopo un po' loro cambiano le facce e ritorniamo un'altra volta a votare quelli di prima quindi che cosa cambia adesso se va biden che cosa cambia diciamo che quando c'è un elemento della destra si ferma un po tutto il vero bene degli esseri umani non viene fatto ancora perché perché sono inefficienti perché vengono ostacolati in tutti i moduli delle burocrazia statali che rimangono in mano della piramide precedente e perché non hanno una vera e propria strategia e quindi diciamo si ferma per un po' la mondializzazione la centralizzazione diciamo le dinamiche peggiori per noi si fermano ma non non è che ne viene fuori qualcosa di buono e poi le cose essenziali il potere che domina tutte e due le piramidi le mantiene comunque sia quindi che ci sia la piramide di destra o quella di sinistra quella più egoica o quella più fintamente buona le cose più importanti vanno avanti lo stesso non so avete mai visto qualcuno dei due che si oppone al 5g avete mai visto qualcuno che si oppone ai vaccini a big pharma l'alimentazione sbagliata no non lo vedrete quindi diciamo i periodi di berlusconi di trump di salvini frenano un po l'agenda ma non migliorano le cose perché l'agenda i temi principali come abbiamo detto vaccini 5g alimentazione attacco chimico eccetera eccetera non mutano perché nessuna delle due piramidi ha il potere di alterare i grandi temi del potere che le controlla quindi diciamo però sulle liti intermedie possono fare quindi che cosa ci può aspettare per esempio se arriva a biden è una ripresa forte dell'evoluzione mondialista una ripresa forte della piramide finto progressista finto buona che diventa molto più forte c'è in questo momento la russia e gli stati uniti e qualche paese europeo e qualche paese medio orientale fanno parte della piramide conservatrice diciamo egoistica e quindi bilanciano abbastanza anche se sono ancora minoritaria pensate rispetto alla piramide finto buonista detta anche gesuito massonica non perché i massoni non siano anche nell'altra piramide sono due due correnti della massoneria e quindi diciamo il peso degli stati uniti messo sulla bilancia mondialista accelera il processo mondialista accelera i processi di reset dei quali parleremo accentua i cambiamenti anti umani della società che rimanevano un po bloccati anche se non nelle parti principali quando c'era la destra facciamo un esempio chi è che sostituirà gli americani come potenza mondiale ma è chiaro ormai lo sanno anche i bambini è la cina la cina guiderà almeno dal punto di vista meccanico commerciale tecnologico la rivoluzione del software la rivoluzione digitale la rivoluzione elettronica anche se elementi di questa cosa continueranno a essere in occidente e chi lo sa forse anche molto in italia e in europa quindi diciamo però la massa di manovra non saranno più gli americani ma la massa di manovra financo militare saranno i cinesi e quindi sono decenni ormai che i migliori professori universitari europei spinti dalle lobby oscure vanno a insegnare ai cinesi e stranamente pur mantenendo un partito comunista al potere la cina è stata comprata letteralmente a dei grandi poteri facendola diventare liberista in economia facendo crescere una marea di ricchi creando un gigante capace di influenzare negativamente tutte le altre economie e nessuno ha detto niente tranne un po' trump e quelli della piramide egoica nazionalista quindi ci si può aspettare una ripresa della cina ci si può aspettare un aumento del mondialismo ci si possono aspettare tutte le agende che erano tipiche dei clinton di obama eccetera quindi diciamo un'accelerazione dei progetti contro di noi non è che non fossero continuati come ho detto con trump e con berlusconi o con salvini per quello che riguarda l'italia solo che si erano un po rallentati adesso non tutto adesso questo potere ha le mani un po più libere diciamo ora su questo si innesta un tema ogni tanto qualcuno dice beh ma a me il trump era più simpatico perché è inutile non puoi dire che io sono egoista perché voglio trump no non è che sei egoista sei illuso che ci sia o meno peggio è un po meno peggio anche se sui temi fondamentali sono uguali le due piramidi in quello che fanno è un po meno peggio perché rallenta un po perché crea un po di confusione ma da questo a sposare putin o trump in quanto buoni ce ne passa dipendono dagli stessi poteri lockdown pandemia terrorismo lotta politica negli stati uniti e non solo lotta politica in italia lotta politica ovunque lotta tra finanziari lotta banca lotta tra tutti la lotta di tutti contro tutti organizzata dagli stessi poteri ma qual è il campo di battaglia vero di queste lotte il virus sta lottando contro i nostri corpi l'oms sta lottando contro la nostra libertà i terroristi stanno lottando contro i poteri occidentali e viceversa i partiti trump e biden sono lottano uno contro l'altro in effetti il vero campo di battaglia è la nostra anima cioè tutto questo gioco viene fatto per cercare di indurci cattivi sentimenti odio rabbia competizione voglia di male verso qualcuno egoismo per indurci a perdere la serenità a stare nell'emergenza a rifugiarci nei nostri sentimenti più gretti quindi anche se questi problemi di cui abbiamo parlato sembrano riguardare il corpo fisico la finanza la salute la malattia i poteri politici e militari servizi segreti quello che in effetti è in gioco è la nostra anima anche lo vedremo in questo grande reset che vogliono fare qualcuno lo interpreta come un modo per prendere in mano ulteriormente l'economia la finanza ma questo sì in parte è così ma non è questa l'interpretazione vera e ne parleremo perché in effetti questi stessi poteri tutta l'economia tutte le risorse tutta la finanza e tutti i soldi del mondo ce l'hanno già in mano non è che si inventano qualcosa di nuovo e quindi c'è qualcosa di più del quale parleremo quello che in gioco è la nostra psiche la nostra anima la crescita del nostro spirito la novità buona è che proprio perché queste cose vengono indotte si cerca di indurre cattivi sentimenti dentro di noi confusione eccetera proprio siccome il campo di battaglia all'interno della nostra anima noi li possiamo combattere cioè se il campo di battaglia fosse solamente esterno le grandi cose sociali militari noi dovremmo avere sistemi bancari in mano dovremmo avere servizi segreti dovremmo avere cannoni e missili nucleari per stare in gioco ma per fortuna quello non è il campo di battaglia il campo di battaglia è dentro la nostra anima come noi reagiamo e come noi agiamo come reagiamo a queste aggressioni che riceviamo e come reagiamo rispetto a queste cose ma siccome il campo di battaglia la nostra anima è dentro la nostra interiorità lì noi possiamo intervenire col nostro io col nostro spirito moderando modificando le nostre relazioni con la forza del nostro spirito e agendo di conseguenza in base ai nostri veri sentimenti ai nostri veri ideali e non ai cattivi sentimenti indotti da questi poteri dentro di noi che cosa vogliono indurre dentro di noi odio rabbia paura sfiducia nella vita risentimento obbedienza cieca in nome delle emergenze appecoronamento perdita di autorità interiore e allora sta a noi non stare al gioco più ci vogliono appecoronati più saremo noi a voler decidere della nostra vita e non obbedire alle parole d'ordine che sentiamo dai media e dai governi agli ordini esterni chiunque li pronunci non ci fideremo ci fideremo solo del nostro giudizio e di quello delle persone vicine a noi delle quali ci fidiamo solo il bene sarà la nostra guida non quello che ci dice qualcun altro più ci vogliono pieni di odio più ci guarderemo intorno e più vorremo il bene delle persone che ci stanno intorno di quelle che incontriamo ogni giorno più vorremmo fare di quale fare qualche cosa di buono per chi non casualmente ci capita di incontrare o di frequentare ogni giorno più ci vogliono sfiduciati depressi impauriti più riprenderemo fiducia nella possibilità concreta che noi possiamo veramente fare qualcosa di buono nella nostra vita perché questo dipende da noi la vita intorno a noi dipende dalle nostre iniziative non dipende dai telegiornali le condizioni nelle quali ci troviamo non sono casuali sono quelle nelle quali noi se vogliamo possiamo fare la cosa migliore di quel giorno e questo ci rafforzerà ci renderà più sardi meno soggetti molto meno pecore più individui liberi capaci di decidere ogni giorno quello che vogliono fare per fare la cosa giusta buona per noi e per tutti più ci vogliono impauriti per le incertezze del destino più decideremo noi il nostro destino che sarà fatto di progetti di cose buone da fare e allora se il campo di battaglia di queste offensive è il nostro cuore non prevarranno non glielo lasceremo fare noi saremo capaci di impedirglielo perché basta usare il cuore per impedirglielo e il cuore ci porta la verità il cuore ci porta il bene il cuore ci porta a non essere ingannati dai poteri anti cuore che ci circondano avremo più forza interiore più serenità e il nostro spirito gli impedirà di compiere azioni contro di noi individualmente un po di olt un po alla volta contro tutta l'umanità fiducia fiducia in noi non nei poteri esterni grazie fiducia fiducia in noi non ne sono più fiducia in noi non ne sono più